Alessandro Fini, domenica in campo con il primo gol che ha servito a sbloccare l'attacco del gialloblu Figline un primo gol che poi ha portato al pareggio ma poi c'è stata anche la vittoria meritata della formazione gialloblu Sono contento naturalmente per il gol, me lo meritavo dopo questo periodo di infortunio però sono maggiormente contento perché sono arrivati a tre punti che ci mancavano dall'inizio del campionato e per il morale sono importantissimi Un gol dalla distanza, un gol bello, un gol bello di potenza come si potrebbe dire magari tu non si affiola come ha fatto Babacara, un pochino in un certo senso ma tu sei contento soprattutto per il risultato che è servito a sbloccare quest'attacco Eh sì, naturalmente prima pensiamo a prendere tre punti e domenica ci siamo riusciti poi è arrivato il gol, sono doppio contento appunto e niente, domenica andiamo a Castelnuovo, un derby e quindi ci teniamo a prendere tre punti anche lì Alessandro Fini come sta adesso poi fisicamente e comunque a disposizione del Mr. Sam? Sì sì sì, io ho reoperato, penso adesso sono al 100% abile Giallo Bluffinini che non ha tenuto forse i risultati che meritava fino adesso, insomma perché il gioco ci sta Sì, il gioco penso ci sia sempre stato, però forse ci è mancato un po' l'atteggiamento e il gioco di squadra e l'aspetto mentale soprattutto, però penso che domenica abbiamo fatto una partita soprattutto di gruppo e penso che se contiamo sì i risultati poi arrivano Grazie